Tonino Ragneda, presidente dell'Arzacchiana, oggi vittorioso per la prima volta fuori casa in un derby, una vittoria per voi molto importante? Certo, importantissima, anche perché comunque viene da una partita su un campo difficile, comunque è sembrato il risultato finale, poi sembrava che magari fosse andato tutto per il meglio e tutto facile. Così non è perché comunque il Sant'Elia fino al secondo nostro gol la partita se l'è giocata e anche bene, quindi per noi non era semplice. Diciamo che di molto positivo, comunque anche oggi non abbiamo subito gol e soprattutto stiamo giocando senza gli attaccanti titolari, oggi c'era Figos però sicuramente non era il meglio, credo non più del 50%, nonostante tutto ha fatto gol. Quindi questo ci fa stare, come dire, abbastanza positivi da quel punto di vista. Credo che come rientreranno anche gli altri infortunati, Angheliddu, Emiliano e Cappai, potremmo vedere la ferra Arzacchiana che fino adesso, insomma, sì il gioco c'è anche stato, però magari i risultati soprattutto fuori casa non erano, diciamo, all'altezza della situazione. Con oggi credo che ci possa essere, insomma, un po' la svolta. Ecco, la possiamo definire questa vittoria della svolta per il vostro campionato? Vi serviva un po' la vittoria di slancio? Io mi auguro che sia così e in effetti oggi, insomma, c'è stato anche il gioco, quindi questo diciamo che mi conforta molto, insomma, e soprattutto ho visto i ragazzi tutti molto motivati, escluso i primi, forse il primo quarto d'ora che magari eravamo un po' timorosi, anche perché comunque questo è un campo un po' particolare, quindi piccolo, poi il sintetico, insomma, non siamo particolarmente abituati. E comunque, insomma, il Sant'Elia è partito comunque con un piglio, diciamo, abbastanza motivato perché veniva dalla vittoria di domenica, insomma, volevano sicuramente riconfermarsi. Ecco, Presidente, un progetto importante il vostro con Virgilio Perra, il campionato forse al di sotto delle attese fino adesso con tanti attenuanti e appunto per i tanti infortuni. Sì, sì, questo degli infortuni sicuramente credo che sia, insomma, il fattore più negativo per quanto riguarda poi l'amalgama della squadra, però noi siamo fiduciosi nel mister, ci crediamo molto e soprattutto siamo fiduciosi in questi giocatori che noi abbiamo scelto insieme al mister e credo che, insomma, i risultati per forza di cosa devono arrivare. Anche perché io ho visto, insomma, le partite che abbiamo incontrato, cioè le squadre che abbiamo incontrato, sono quelle soprattutto di alta classifica, quindi le più forti le abbiamo incontrate e nessuno ci ha messo sotto. Quindi, insomma, questo mi fa stare, come dire, positivo sul futuro. Ecco, Presidente, possiamo far tacere le voci che dicevano appunto che l'Arzacena, magari non vincendo oggi, avrebbe avuto un ridimensionamento nei programmi, non c'era nulla di vero? Ma questo del ridimensionamento, non lo so, è una voce che sinceramente è la prima volta che io sento una cosa del genere, anche perché comunque il nostro obiettivo è quello di arrivare sicuramente nei primi cinque del campionato e noi manteniamo, insomma, quelli che sono gli obiettivi di inizio stagione. Poi, insomma, voglio dire, c'è questo mese che sicuramente è importante. Noi le prossime partite ne abbiamo due in casa, con Selargius e Bacoli, quindi, insomma, da lì vedremo anche se effettivamente possiamo aspirare magari a qualcosa di più. Ecco, col mister abbiamo parlato proprio della gara col Selargius, per lui particolare, oggi il Selargius ha vinto 3-0 a Colbacoli, quindi ha pari punti con voi e sarà una bella gara comunque. Sì, Selargius sta disputando un ottimo campionato e, tra l'altro, insomma, ho visto che l'ultimo acquisto che hanno fatto da Agostino, un giocatore di qualità, che va ad integrarsi con altri giocatori che magari non sono di, diciamo, grandi nomi, però sono dei ragazzi che sono cresciuti, tra l'altro, con mister Perra, Lui mi ha parlato bene, quindi credo che, insomma, loro continueranno questo tipo di campionato, ne sono sicuro. Ecco, Presidente, da voi ruba all'occhio Emiliano Melis, Figo, spero sicuramente la vostra soddisfazione, vedere entrare Samuel Espano, fare gol, Mastino, giocatori del Vivaglio. Certo, noi ci abbiamo sempre creduto e io per primo, insomma, soprattutto su Samuel e Mastino sono quello che mi sono abbattuto per cercare di tenerli in tutti i modi, nonostante ci fossero richieste, insomma, un po' da tante squadre. Loro sono rimasti molto volentieri e stanno dimostrando che, insomma, abbiamo avuto ragione entrambi a farli rimanere con la Razzacchena e stanno dando il massimo. Credo che, insomma, sentivo anche i commenti in tribuna, voglio dire, sono tutti rimasti, come dire, abbastanza impressionati dalla tranquillità con cui gestiscono la palla, come giocano, questo ci fa molto piacere. Presidente, chiudiamo con la Coppa Italia, questo verdetto che è una partita persa, però voi non avete mollato, ricorso, questa settimana se ne saprà di più. Sì, questa settimana dovremmo avere una risposta perché noi abbiamo fatto un ricorso alla Corte federale perché, insomma, secondo noi è stata una sentenza, a dir poco, scandalosa, insomma, perché comunque se anche ci fosse stato un nostro errore, si tratta di un errore tecnico e comunque normalmente in questi casi si rifà la partita e quindi, insomma, questo... Ecco, ricordiamo un attimo, siete arrivati ai rigori, dovete consegnare questa famosa lista con i dieci nominativi, poi si spunta il portiere rigorista, ricordiamo un attimo... No, è stata praticamente richiesta giustamente dall'arbitro la lista, la lista è stata trattata tra l'altro di cinque giocatori, perché normalmente, insomma, diciamo che... Poi gli altri nomi l'arbitro li ha presi verbalmente, l'ha anche dichiarato lui, in più ci ha obbligato a far tirare il rigore al nostro portiere, che quindi risultava, diciamo, undicesimo, In più il portiere ha tirato il rigore, l'ha pure sbagliato e quindi non ha neanche influito sul risultato finale e quindi, insomma, ci sembra che se proprio c'è qualche problema, alla fine si debba ripetere la partita, ecco, questo è... Va bene, Presidente, tanti auguri per il proprio eseguo del campionato, complimenti per la vittoria di oggi e in bocca al lupo Grazie, crepi